Io ti direi un bel pianto come ieri che ci darà Costi, c'era un sti scemi così sicuramente Quindi non ci troveremo in un cazzo Come al solito Ma che vuoi trovare? Mamma mia che disgrazia Mortacci vostro Vabbè ieri Taliska però manca a far così con Frimpong Damme Nalland Sai come sta bene di entrambi Io ho dati i calo 91 per damme questo 91 Ieri ho trovato Taliska Vai per sculerà Ha trovato Bellingham Pick? Godrei a trovare Un altro Bellingham, potrei godere Germania, DC Mamma mia ma chi è questo sto disgraziato A chi grazie per bis Sono 2006 allora Ci sta, ci sta tutto Vabbè dai Manco male lo può utilizzare secondo me Ci sta, ci sta Come ogni giorno Alle 19 L'ho fatto Apposto così Anzi I mogli che ho usato Tra un po' mi panno Magari un'altra cosettina Da prima So I primi tre che aprimo Tutti e tre E' una merda Eh però tra una mezz'oretta Te si sblocca Dagli il tempo Sì che poi magari c'è C'è qualcuno Tipo capito Un chat che fa Legge scam scam Eppure vero Mortacci vostra Scusa Tipo Ma Tittoria Non ho capito Ma che è scritto Tozze Bundesliga Fammi sognare Posso comprarne A me mi devo comprare Ma un'altra cosa Ma quanti cazzo Stiamo di fila Oh Ma questo è il peggiore In assoluto Che apriamo Eh in po' c'è via Eh ma fa troppo caldo Cioè 27 gradi È 19.11 Porca troia Ma oggi ho detto Non uscivo da casa Da Bu Ero uscito domenica Vabbè però Mi sono fatto una passeggiata Ma sono uscito tardi Stavo abbastanza bene Cioè stavo a credere Francia D Sono riuscito Uscito oggi Per andare in palestra Uscito verso mezzogiorno e mezzo Ma poi è un'aria calda Ma che cazzo è a maggio Vabbè Beh è andata meglio Che all'altri Questa squadra Dai Ha rifatto pure 10 giocatori rari Vabbè magari Troviamo qualcosa Dai Germania Di Dai Dai Ma che drop è Ma che drop Ma è impossibile Ma non è Ma dai Ma che cazzo Porti Ma non ho trovato i 10 De questi Inoperti 6 Apriamo pure l'altro Vai 10 giocatori da Bundes Vediamo se Ma santa è callo sto monitor Ma che c'è Mi scavo più a mano Buono Buonissimo E uno è un altro abbonato Se non si è abbonato Non li puoi prendo Ovviamente Oh Kostic Era meglio l'altro Pensa un po' No però dice Dar 19 maggio Fino alle ore Del 20 maggio No non penso Se posso Faire biglietti Non sono cedibili Ma Non è che ho capito Tanto che Guarda che squadretta Pazza Ah per vedere La finale All'Olimpico Ah vabbè Allora io Pio Che che hanno fatto A aprire la zia Vabbè Sì c'è sta Comunque Ah ok Tu Pio Tu Pio Io Pio Io Pio Diabììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì No no Lì non esageriamo Guarda che è mo' viola Dici porta bene Vabbè a me qua cosa Mi ha fatto troppo ride Che stavo sempre a romper il cazzo E poi hanno fionnato dalla finestra Vabbè te posso dire A livello dove roller Migliore che abbiamo trovato fino a mo' Grande vittoria Manuel Neuer Vabbè l'arte è una bella squadra esotica quella Però con Mitrovic tutti i link E' proprio pazza E' proprio un'altra storia Intanto apriamo questo Vediamo che esce fuori D'è bello Tutto bene E' entroate Mamma mia ma Questi sono i peggiori garantiti che abbia mai visto Comunque una shakura Incredibile Quanti top hai trovato Il mio talisca è il migliore che ho trovato Poi in altri discreti L'ho trovato Tipo nella premier Però insomma Tazze bundesliga vai E pensate anche che da me C'hai 40 mesi di sub E parli Vabbè dai Ne la posso Ne la posso Faprire sta roba Non è Non è una roba normale Non è una roba Non è una roba Fattibile Ma che pacchi so Dai 40 mesi e 3 mesi Dei watch No anche come Mi chiedi Dai Odorate a Simo Marti In realtà Poi magari un giorno Anche Che ne so Dai No Ma questo Rifundano sto pacco No Rifundano Dai Rifundano il pacco Rifundano Un mese e 20 giorni Taccimi pure tua Dai Rifunderanno Non ce credo Oh Trenta si trovava Di assi Io comunque ne ho trovati Un po' Da premier buoni Ma chi va a trovare Da fasto Tozza garantito Ma io i tozza garantiti Dico in generale De falli L'unico problema E che non si trova Ma in cazzo Mi ricorda un po' Quei tozza garantiti Bundes Quando trovavo Sempre l'austriaco Vabbè Te dirò Te dirò E' il migliore Fino adesso Noier Io prenderei E porterei Proprio che a casa Tos BPL Allison Vabbè Cioè E così tipo Sceglie Cotta l'isca Onestamente Quindi non è che C'ho tutte Ste pretese Magari uno Sai Ah E' perchè ho detto Frimpong Quindi Equilibrata Equilibrata Rientra agli esterni E rimani davanti A sbariarci A C Basta Non è che lo gioco In maniera Particolare Trovamo Davis Dai 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 C'è credo C'è credo C'è credo Nel cuore Dei pacchi Ci credo Ci credo Ci credo Canada 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 Questo è Canada Per cazzo mio E' Canada Non ho visto E non Farò finta di niente Eh Diabì Oh ma diabì E' l'unico Che poi quanto costa 150 Sì Canada Post bundesliga Dai 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 Facci sognare Facci sognare Oh manco un cuse Poi trova Sempre sto cazzo Dei diabì E che cazzo Ma gli è partita Fissa chi diabì Incredibile Oh Sto grande tozzo Bundesliga No non è male Però costa tu sordi Uno se ti trovano Scambiabili Almeno a trovare Davis Manuel Noia Manuel Noia Stai grazie Per Beats Ciao Stai grazie Per Beats No E' tornato Scott Ex Vodai che toccherebbe Fa Però uno dovrebbe C'è I riflessi pronti Appena tornano i Beats Fai la clip E la registri Così fai il best off Dei Beats Donati Su Youtube Trovo io in coviene Che qua L'account è rotto Ma che Account è rotto 85 Più toz La sfida Che è 70 D'intesa Un po' tantino Secondo me D'intesa Grazie Grazie Pizza Salve Io vengo dal futuro Viaggio nel tempo Facendo Fiuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafu No da sblocca no Ciao la Rumore di piatti Oh però Grande walk out Guarda un bel Lumes da questo Splaffe 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 Grandi che non fanno Shimbo Appen 95 Potma Questo è il per Cioè È assurdo Comunque Ma perché è riuscito A sta cagata Non capisco Ma un Holland È una cosa Sono tanti Ciao Fox Grazie per l'euro FIFA 22 È un bel gioco? No E ha fa mille miliardi? Shapo Migliori gioco sportivo Della storia Shapo Cagano soldi Dal culo Shapo Devono morire Di che anche Si una bomba Su tutto il Canada No Si sbaglierò Parere mio personale Io mi distocio Assolutamente Grazie per l'euro Fox Assolutamente Però lo streamer Si dissocia Tozze bundes Ligate Jumpin Bravo Pai Gufagliela Gufagliela Gufa 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 Vabbè Un po' Se gode Jumpin Sono merita Kostic Kostic Il peggioro in assoluto Che padrova Povero Papa La carta Insieme È una bella Una bella Pippa Non era una pippa Però C'è Attenzione È mezzo In questo C'è Bellingham Non c'è Manco Lo so Vedegli Da Bellingham Di Sistema Borussia Oggi c'è la finale Europa League Si Manuel No Yer Proprio lui Il portierone Baran, mio dio Ha fatto day rank? Ma poi apri Progosto, drop Cdc, no, ancora lui Sono una condanna Si pacchi, altro che Sono veramente una condanna Che brutti, ma come hanno fatto A fare una roba, un drop del genere Io stavo pure sotto Lo so, però c'è sta chi da sotto Mi rimane i messaggi da sopra Lo so, io vado a tutti Mamma mia, mi ho trovato Che sofferenza Quanti ne ho aperti Mille ne ho aperti Certo, c'ho ragione Avvenne presi due a milione e mezzo Cazzo Un cusì Ah, ma grazie a più Vediamo se dopo un cuncu Riuscimo Più o meno Ah, scusa Anche è vero Moteva in capri Ma dopo l'Atalanta Non è che c'è tanto Da avere paura Onestamente È tornato Scottex Il nostro amico Te sculo questo E se vola Te dici meglio la porta Fra, grazie per pizza Sai perché gli usa Non sanno giocare a scacchi? Perché gli mancano due torri No, no, no No, lo streamer Prende assolutamente Le distanze da quest'euro Ringrazia Ma, insomma Io mi dissocio Allora Tozbun sliega È sì Perché se lo metti tutto attaccato Se lasci gli spazi Si fa tipo 7, 3, 7, 3, 7 Invece se lo lasci tutto Attaccato Ti legge proprio il numero Non so fino a quanto arriva È tornato il nostro Grande campione Che ci dà Grandissime soddisfazioni Dai a te Mascula Io a 3dc Meglio la porte Viera Varane Con Cancelo S Oppure Guardi Or Varane Viera Sule Io farei Guardi Or Viera Sule Con Davis Sai Proprio lui Ci sa che metti Magari uno Che è un po' più scarso In difesa Ma che comunque Tiene Che si Famersu Immagino Saria Full SBC C'è stata Dai Inghilterra Pena risata Goliardica Fammi i testi Inghilterra Francia T Ne hai visto 1 e 9 di più Può fare il quinto In che senso Ciao Grazie Ma te pare Che dici Ma qual è il problema Un saluto Nere Frimponghe Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip La non è male Ho giocato sia cc sia cc sia tt Sia ed è uno che comunque sia A parte il 4-4 comunque è una carta valida Ambedi c'è indica Nei tritots Pazzesco non se sono regolati Adesso la vivo 100 Per trovo indica Faccio guarda che toglie Ruben Dias Non giocherebbe me di pensare adesso nel 3-5-2 Gioca a destra ma è mancino Però Oh Müller Iniziamo a vedere qualcosa un po' più variegato Comunque apprezzo sempre Cioè nel senso quando iniziano A far te vedere un altro paio di cosette Sfida della stagione Dentro SBC Dai 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 Questo è buono Questo è buonissimo Oh 3 defila diversi dai soliti coglioni Stiamo tra tutta gente che ne abbiamo mai trovato E qua non gli faccio 8 qui Vabbè Retrociati è un po' apposta Vai tipo a 1650 E gioca Cioè hanno veramente troppato due pacchi Su 50 aperti Credo È uscito un Un cuncu Un dica E un Davis Bah Müller manco Carcolo Perché è meglio se te da noi Era la fine Tu lo compri A 3-1 No ma è buono Perché poi si sono pure rialzati Buono E ho visto a 3 milioni Lo stavo un po' a tenere d'occhio Poi è andato su ancora Grazie a tutti